Ecco, qui invece siamo dalla parte del Grand Hotel e sto inquadrando il Casino. Ecco, là in fondo c'è il Casino di San Pellegrino, il Brembo, provo a zoomare un po' il Casino. Il Casino, il Brembo, il Viale che costeggia Grand Hotel, che stanno rifacendo tutto, come dico, per la terza volta. Siamo contro sole, quindi va un po' male. Ecco sempre il Brembo. Questo è un montezucco che rimane alle spalle di San Pellegrino. Questa è la macchina di Luan. Luan saluta? Ecco, Luan ti saluta. Ecco, la parte del centro rimane praticamente dove stiamo inquadrando adesso. E' tutto ancora fuori stagione. E' lo sconto. La parte delasco, l'A qualcosa di un anno di un anno. D'applico fuori stagione. E' lo sconto. Il pallo è il punto di sotto. L'Aquata d'un anno e l'Aquata. E' lo sconto è il punto di sotto. E' lo sconto. Il Pellegrino, il paio è il punto di sotto. C'è lo sconto. ok